Musica Previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 15 marzo e cominciamo subito da Avellino con giornata tendenzialmente soleggiata, eventi saranno deboli. A Dariano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, bel tempo anche a Baiano. Cieli in prevalenza sereni o comunque poco nuvolosi a Lioni, a Cervinara giornata tendenzialmente soleggiata. A Napoli cieli sereni per l'intera giornata, eventi saranno deboli, mare mosso. A Salerno bel tempo con venti deboli e mare mosso. A Benevento giornata tendenzialmente soleggiata, eventi saranno deboli. A Caserta bel tempo con venti deboli. Le temperature a Avellino temperatura massima 16 gradi, 2 gradi la temperatura minima. 14 gradi la temperatura massima a Napoli, 9 gradi la temperatura minima. A Salerno 15 gradi la temperatura massima, 8 gradi la temperatura minima. A Benevento 17 gradi la temperatura massima, 2 gradi la temperatura minima. Mentre a Caserta 17 gradi la temperatura massima, 3 gradi la temperatura minima. Ed è tutto anche per oggi. Musica Autore dei sorrisi